Il tutor Tommaso Arrigoni, protagonista dello spazio dedicato alla cucina, all'interno del programma condotto da Caterina Balivo su Rai 2, detto fatto, ha dato la ricetta della 1000 foglie di salmone. Di seguito Ingredienti e procedimento Ingredienti 1 Rotolo di pasta sfoglia, 600 g filetto di salmone, 200 g sale fino, 200 g zucchero semolato, 100 g maionese, 3 carciofi, mezzo cavolfiore, un mazzetto di aneto, 1 spicchio d'aglio, 1 bicchiere di vino bianco, olio e voprocedimento Mescoliamo il sale con lo zucchero. Aggiungiamo l'aneto tritato e versiamo il tutto sul salmone. Copriamo per bene il pesce e lasciamo marinare per 24 ore in frigorifero. Trascorso quest'intervallo, sciacquiamo sotto l'acqua il pesce, lo asciughiamo e lo tagliamo a fettine. Intanto, facciamo cuocere i carciofi puliti con il vino bianco, l'aglio ed il timo. Una volta cotti, li tagliamo a spicchi. Stendiamo la pasta sfoglia già pronta tra due fogli di carta forno. Posizioniamo su una teglia e la copriamo con un'altra teglia, in modo che non si gonfi troppo in forno. Inforniamo a 180 grado fino a doratura. Una volta cotta, tagliamo dei rettangolini di egual misura. Affettiamo i cavolfiori con la mandolina e condiamo le foglie ottenute con sale e olio. Componiamo spalmiamo la maionese su un rettangolo di sfoglia. Disponiamo sopra il salmone scaloppato, qualche carciofo e copriamo con la sfoglia. Formiamo un altro strato di condimento.